Ok, mamma, I'm fine, I'm alive, don't worry. Mia madre che chiama... Non gli hai detto I love you, mam! Io gli ho detto I love you. No, gli hai detto I love you. I did? Così, ora io ballerò un tango, io ballerò un tango. Con la chitarra, vitti, balla con la chitarra. La chitarra è il tuo... Vitti, non tocca la mia chitarra! Hai detto tu chitarra! Non tocca la mia chitarra, vitti. Allora, immagino che... Non tocca la mia chitarra, vitti. Io sto facendo salone, sto facendo mi love in questo momento. Sto facendo... No, anzi, sto facendo morena. Attenzione ai piedi di Vittoria. Ma in cazzo devo fare i semi-guiditi? Mi riprendono così, questa è una fitta. Questo si chiama incrocio. Bob. Incrocio. Questa si chiama volcada. Attenzione ai miei piedi che sono spavaranzati su letto che non stanno facendo un cazzo. Al contrario di quelle di Vitti. Controllo dei miei piedi che si adoperano. Ma quanto può essere bella la mia chitarra. Peccato che mi dà il culo in questo momento. Ma quanto è bello il mio piede. Oh, caca. Te lo mangio. No. Il mio piede. Questo si chiama volo basso. Vitti, io voglio sperare che questi video non li vedrà mai nessuno. Allora li metto su internet. Vitti, il mio sguardo dovrebbe farti capire tutto. Scusate, ci vuole. Tesoro mio, my love. Mia morte, chiero, mucio, mucio, mucio. Già di chiero, mucio, mucio. Ma qua non c'è un pezzo di zoom. Allora, facciamo. Vorrei far notare che ti intende sia di tano che di classico. Quanto un rond de jambe a te. Vitti, ma non c'è un pezzo di zoom in questa macchina fotografica? Oh, guarda, filmate, può somigliare ad un adorno. Cioè, quando ci può somigliare? Guardate, rond de jambe, adorno. Wow. Oppure anche questo è un adorno in tango. Mè. Molto spesso si prende una moscata da questo. Mè, la nostra maestrina. Abbiamo parmi tutto. Ciao. Ciao.